Ti insegno un life hack. Cono gelato, ma senza gelato. Lo incarto nel foglio di alluminio e faccio anche gli altri. Una spruzzatina di spray staccante per rendere la vita più facile. Pasta sfoglia rettangolare, la stendo un po' più fine e la taglio a strisce. Spennello con l'uovo sbattuto e arrotolo la striscia sul cono partendo dal fondo, sovrapponendola leggermente su se stessa. Un'altra spennellata, un passaggio nello zucchero e via in forno a 180 gradi per circa 18 minuti. Lascio raffreddare prima di togliere i coni e infine li riempio di crema pasticcera. Per fare questi cannoncini alla crema super facili,